E il materiale fotografico, appunto, come giustamente hai detto, è vivo. Alt, fermi un attimo, affronteremo questo discorso a metà video. È che serve un inizio, altrimenti un vlog non funziona. Un inizio tipo questo. Ogni volta che uso un navigatore o un software come Google Earth, ne rimango affascinato. Quando ho iniziato a guidare, o conoscevi la strada o dovevi utilizzare un tutto città. Oggi, invece, scrivi il nome della via in cui vuoi andare, su un programma o un'app, e in me che non si dica... Anche voi qui? Buongiorno, buongiorno. Si può? Si può? Ecco qua. Siamo qui, in questo posto, l'Aerofototeca Nazionale, con la responsabile, la dottoressa Shepard. Dottoressa, di che cosa vi occupate qui? L'Aerofototeca Nazionale è un grande archivio storico di fotografie aeree dell'Italia, ma non solo. E si occupa non solo di valorizzare e preservare il suo patrimonio, ma anche di renderlo noto e metterlo a disposizione dei cittadini, come ogni archivio dello Stato fa per sua natura. La fotografia aerea che conserviamo qua comincia con proprio gli esordi della fotografia aerea in Italia, quindi alla fine dell'Ottocento e le ultime foto sono di pochi anni fa, come questa alle mie spalle, o altre che sono del 2015-2016. Quindi copriamo più di un secolo di fotografia aerea in Italia. L'Aerofototeca è anche il più grande archivio civile di fotografia aerea in Italia. Gli altri due sono militari, infatti. La fotografia aerea per sua natura è sempre stata molto fatta e gestita dal mondo militare. E sono l'archivio dell'Aeronautica Militare e quello dell'Istituto Geografico Militare di Firenze. Quando noi pensiamo ad una ripresa dall'alto, ci viene in mente subito il satellite, che è un po' il nuovo modo di riprendere il mondo, le abitazioni e quant'altro. Un tempo invece come veniva fatto? Un tempo veniva fatto spedendo per aria degli aerei muniti di macchine fotografiche che facevano questo, riprendevano il territorio con varie motivazioni. Per esempio, gli aerei militari durante la guerra lo facevano per scopi bellici, quindi per controllare come stava andando la guerra, per vedere i movimenti del nemico. E questo sia degli alleati che dell'asse. Sia degli alleati che dell'asse, incidentalmente, noi qui conserviamo gli archivi fotografici di foto sull'Italia. Altrimenti, per scopi civili, scopi di conoscenza del territorio, di pianificazione del territorio, si faceva questo, si mandava un aereo a scattare delle foto dall'alto. Prima degli aerei, però, alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, questo lavoro lo facevano i dirigibili, lo facevano i palloni aerostatici, anche di questi noi abbiamo qui le foto, alcune sono molto famose. E prima ancora gli aquiloni, addirittura la foto d'aquilone, che tra l'altro, proprio in questo periodo, ha ritrovato una grande verva, perché è una foto complicata da fare, perché controllare una macchina fotografica su un aquilone non è uno scherzo da ragazzi, ma è totalmente ecologica, perché non ha nessun motore, non ha niente se non le condizioni atmosferiche naturali che gestiscono l'aquilone, che dà un grosso successo. Ci sono due tipi di fotografia aerea, la fotografia aerea prospettica, dove si inquadrava il soggetto così come possiamo immaginarlo nella fotografia normale. Nell'ortofotografia, cioè quella ripresa, la fotografia aerea nadirale, si lavorava fotografando il territorio in strisciate, così appunto come lavora anche con satellite, e venivano inquadrate porzioni di territorio che interessavano per il loro progetto strategico. Quindi abbiamo da una parte mongolfiere, da una parte dirigibili, aerei, aquiloni, e oggi invece possiamo parlare di satelliti, droni, immagini. Oggi parliamo di satelliti, noi in Aerofototeca non abbiamo quasi niente di immagini satellitari, molto poco. Diciamo da quando è partito il satellite, noi siamo diventati un archivio storico, mentre prima l'Aerofototeca era un archivio all'avanguardia, perché usava questo nuovo mezzo della fotografia d'aereo, con l'arrivo del satellite si è trasformata in un archivio storico e forse ha anche acquistato più importanza, perché chiunque lavori con le foto satellitari inevitabilmente si chiede cosa c'era prima. Ecco, il prima siamo noi. Quindi per sapere una fetta di territorio visibile tranquillamente oggi su Google Earth, per sapere cosa c'era prima, serve un archivio storico. E l'archivio storico di foto aereo in Italia è l'Aerofototeca. Io, avendo avuto l'onore di vedere l'archivio vero e proprio, è come se fossi entrato all'interno di un dispositivo digitale e l'avesi visto reale. Ne ho sentito gli odori, ne ho toccato le essenze ed è un qualche cosa di magnifico. Chiaramente è un qualche cosa di vivo, se possiamo dire. Essendo qualcosa di vivo, essendo qualcosa anche che comincia ad avere un'età importante, va anche monitorato. Ed è per questo che un canale che tratta di microbiologia oggi è qui. E il materiale fotografico, appunto, come giustamente hai detto, è vivo. È quindi appetibile dalle specie microbiologiche, anche dagli insetti. Nel corso degli anni, ovviamente sapendo che determinate specie microbiologiche, determinate specie viventi hanno un loro habitat e un loro range di microclima in cui sono particolarmente attive, a questo punto abbiamo monitorato gli ambienti in modo da poter conoscere in maniera puntuale sempre e su lungo periodo, perché un monitoraggio ha significato solo se raccoglie i dati di lunghi periodi dovuti all'escursione e giornaliere, ma anche stagionali. Di conseguenza abbiamo messo su un impianto di rilevamento microclimatico nei vari ambienti che misura in tempo praticamente reale i valori di temperatura e di umidità relativa. Sappiamo che le muffe sono particolarmente favorite da un'umidità alta. Di conseguenza, se conosciamo il comportamento degli ambienti dal punto di vista microclimatico, noi conosciamo che cosa dobbiamo andare a correggere nell'ambiente stesso. Prima mi spiegavate che l'archivio dall'85 ha cambiato un po' veste e addirittura persone venivano e vi facevano richieste un pochettino particolari. Perché che è successo nel 1985 in Italia? Nel 1985 c'è stato il primo condono edilizio in Italia e con l'avvento dei condoni la fotografia aerea è diventata una testimonianza accettata dai tribunali come dimostrazione efficace di uno stato, di una questione. E c'è un piccolo aneddoto romantico, se vogliamo, che riguarda un vecchio cinema romano. Il cinema America, il cinema America, che è a Trastevere e che da anni sta attraversando problemi molto seri per la sopravvivenza, per la gestione, che vede tantissimi giovani molto appassionati che si stanno veramente dando tanto da fare per salvarlo, perché tra l'altro è una istituzione storica della Rione Trastevere, anche di Roma. Anni fa una giovane che faceva parte di questo gruppo di difesa del cinema America è venuta da noi per cercare delle foto che ne attestassero lo Stato negli anni, mi pare, 60, perché tra le tante questioni che c'erano c'era appunto quello di un possibile abuso edilizio. E invece le nostre foto gli hanno dato una mano a risolvere almeno questa questione, che è una cosa che ovviamente ci ha fatto a tutti molto piacere. Stupendo, è un po' il nonno, una fotografica che aiuta il nipote. Non distrugge però un altro nonno perché il cinema è altrettanto vecchio. Mi ha colpito il fatto di aver visto delle fotografie della regina Elisabetta, ma non c'era nella fotografia la regina Elisabetta, però poi erano di proprietà della regina. Sono di proprietà della regina Elisabetta. Perché sono le foto cosiddette rough, che sono uno dei pezzi di resistenza di questo archivio. sono le foto, una parte delle foto della Seconda Guerra Mondiale, conservate qua, che raffigurano il territorio italiano. E questa parte è di proprietà dello Stato britannico, lo Stato britannico e quindi è della corona. Queste foto stanno qui in Aerofototeca dal 1965 con un accordo trentennale che poi è stato rinnovato per altri trent'anni. e quindi noi le conserviamo per lo Stato inglese. Abbiamo la possibilità di fare divulgazione, di pubblicarle, di usarle, però non sono di proprietà dello Stato italiano, sono in deposito. Io vi ringrazio per avermi ospitato. Me ne vado da questo posto con la sensazione di essere entrato per davvero in un mega harddisc pieno di immagini di pezzetti d'Italia fotografati dall'alto in diversi anni. Me ne vado entusiasta del fatto che un passato del genere non è dimenticato, ma rimane ben custodito. Ed è sicuramente grazie a questo passato che oggi possiamo permetterci un presente sempre più veloce, sempre più preciso, sempre più futuro.